Dobbiamo scaldare l'olio per fritto Per frittare la torta fritta Cotta pizza Gnocco fritto Gnocco fritto Ma è origine però questo Origine Gnocco fritto Che che compre? No, è che è culturabile Ecco E non sai cosa vuol dire fritto? Quanti olio ci vuole? 8 litri Adoro Ecco poi adesso la preparazione alla pasta Così lo buttiamo Buttano Buttano via Direttamente sull'olio caldo Ok Adesso aspettiamo che si cominciano a fare L'amore E' la pasta Gnocchi fritto 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 S.K.U.D.R.I.S. 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 D.J.R.I.S. S.K.U.D.R.I.S. 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 S.K.U.D.R.I.S S.K.U.D.R.I.S Grazie a tutti 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 Grazie a tutti